La Polizia Stradale del Piemonte e Valle d'Aosta e la Polizia Cantonale del Vallese svolgeranno d'ora in poi servizi congiunti nelle zone dei due confini nazionali sul Sempione. Alla fine di aprile si sono svolte a briga le prime giornate di formazione per una maggiore cooperazione trasfrontaliera tra le autorità di polizia. Già quest'anno potranno essere effettuati sopralluoghi congiunti sulla viabilità della provincia del Verbano Cusio-Ossola e di... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.